Gentili telespettatori buona giornata, sondaggio Dire Tecne Monitor Italia di oggi sabato 20 gennaio 2024 sulla fiducia nei leader politici. Giorgia Meloni è in testa con il 44,1%, segue Antonio Tajani con il 33,5%, poi Giuseppe Conte con il 31%, Ellie Schlein con il 29,4%, Matteo Salvini con il 29%, Emma Bonino con il 24,3%, Maurizio Lupi con il 24,3%, Carlo Calenda 20,5%, Angelo Bonelli 16%, Nicola Fratoianni 14,8% e come sempre chiude Matteo Renzi con il 14,5%. Grazie a tutti e arrivederci a presto.